Oh, mamma! Sempre questi dindon, dindon, dindon! Ma cosa avranno di speciale questi dindon? Fanno schifo! Mi esce il sangue dalle orecchie! Non si possono ascoltare? Dindon, 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 dindon! Sembra una campana! Dindon! Oppure sono cinesi? Dindon! Mamma, sì, di solito sono d'accordo con te, ma veramente, guardi sempre questi dindon! Ragazzi, non capisco! Sono così bravi! Guardate che brava band! Sì, infatti, ragazzi, sono bravissimi! La musica è spettacolare! Io li adoro! Cosa avete da dire sempre? Ah, non è possibile! Ehi, Anna! Mmm, basta! Possiamo guardare qualcosa che piaccia a me per una volta! E, Anna, facciamo... facciamo il video? Ah, sì, certo! Le abitudini di Emma! Forza, dobbiamo cominciare a filmare! Dai, 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 vado a prendere la videocamera! Ok! Cosa? Le abitudini di Emma? Sì, mamma! Un film sulla mia vita! Su quello che faccio io di solito, tutto il giorno! Ok, Emma! Sono pronta, vai! Ciao a tutti! Io sono Emma Fogel e oggi vi farò vedere le mie abitudini! Ecco cosa faccio durante la giornata! Prego, seguitemi! Anna, forza, seguimi! Sì, sì, ti sto seguendo, Emma! Allora, prima di andare a letto, vado in bagno per, ovviamente, fare tutto prima della nonna! Forza, venite al piano di sopra con me! Ecco, io faccio le scale e sono un po' difficoltose per me, perché sono ancora un po' piccola, però sono molto brava! Ah, caspita, mi sono dimenticata! Devo fare il bagno ad Emma! Martino, aspettami qua, dai! Dopo guarderemo, finiremo di guardare! E' così qua nel bagno! Oggi non devo fare niente, però questo è il luogo dove mi lavo i denti prima della nonna! Mamma, no! Devi uscire il mio film! Non puoi entrare! Emma, tesoro, mi sono dimenticata che devi farti il bagno oggi! Dobbiamo fare il bagno! Ehm, bagno? Ok, sì, io amo fare il bagno! Uh, tanta schiuma però, mamma, ok? Certo, ora preparo l'acqua! Ecco, ora vedrete che Emma fa il bagno! È il bagno caldo che mi piace tanto fare! Mi prepara la mamma l'acquetta e io, amici, tuffo dentro! Uh, guardate quanta schiuma! Viene bene, Anna? Sì, benissimo! Fantastico, Emma! Ok, tesoro, ora puoi uscire! No, mamma, mi voglio rimanere qua! Ma no, tesoro, ho bisogno di uscire, pulirsi, asciugarsi, forza! Ok, va bene! Eccoci qua! Ora ci asciughiamo per bene, 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 bene! Sì, mamma, però adesso basta, è il mio film! Non devi comparire, faccio da sola! Sì, mamma, infatti, dai, vai! Ok, ok! E ora invece faccio la pipì prima di lavarmi i denti! Anna, non devi rifilmare mentre faccio la pipì! Su, va, te, Anna, esci, dai! Mmm, ok, Emma, mamma mia, che casino questo film! È tutto un fai, vai, esci! E ora invece mi lavo i denti prima di fare la nanna! E Anna deve tornare a filmarmi! Anna, torna! Mamma, eccomi! Eccomi qua a lavarmi i denti! E ora che sono tutta pronta, profumata e pulita, si va a letto! Forza, seguitemi nel mio super fantastico, meraviglioso letto! Guardate quanto è comodo! Aspetto che la mamma mi venga a dare il bacino della buonanotte e poi posso dormire! Mamma! Oh, arrivo, arrivo, ho sentito, sto arrivando! Puoi che ti lega una storiella, tesoro? No, tassera no, solo il bacino della buonanotte! Ok, va bene! Allora, un bacino della buonanotte per la mia piccola Emma, che è quella che va letto per prima rispetto ai suoi fratelli! Ok, Anna, Emma, ora dobbiamo finire! Dai, Anna, dopo andrai anche tu a letto, eh? Sì, mamma, devo solo finire! Dai, saluto a tutti! Ok, è stato un piacere farvi vedere le mie abitudini della giornata! Ora vado a letto perché sono tanto stanca! Ciao a tutti dalla vostra Emma Fogel, è stato un piacere! A presto!